Un mese buono di lavori perché dobbiamo ancora fare la brefellina, chiamiamola in questo modo, riuscita da Via Le Gramsci verso Montevarchi, un po' come c'è adesso, però viene più aderente alla rotatoria e sistemare con la parte pedonale sempre nella stessa zona. In contemporanea siamo riusciti anche a concordare con Publiacqua la sostituzione della parte del tubo dell'acquedotto che sta sotto Via Le Gramsci, che loro dovranno fare, o hanno un progetto di fare comunque in questo anno, questo tratto che fanno subito, ci evitiamo di, diciamo, disfare i tappeti appena fatti. Una volta fatte queste opere, quindi un mese più o meno di lavoro, si farà poi i tappeti di entrambe le rotatorie, in maniera che sia la rotatoria di quattro e quella di là, che si siano un po' assestate, tra virgolette, e quello sarà un momentino un po' più particolare, però cercheremo, a limite anche con una sospensione dell'elaborazione, di coordinarsi in maniera a fare poi quella giornata che è necessaria per i tappeti, ben organizzata, anche valutando la giornata di pioggia piuttosto che no, per disturbare il meno possibile, insomma, poi la circolazione. Speriamo che il tempo sia buono e ci aiuti in questo mese, come ci ha aiutato fino adesso.